Sono le 12 e 30 quando la tartaruga chi sta per essere buttata in acqua dopo che è stata curata, ecco il momento che sta per prendere il mare gli uomini della quadra di finanza aiutano non vi mettete davanti, non state così davanti eccola, dai che vuole nuotare, è andata, è andata, mi piace vedi che non devi avere paura che sia fatta la tua stagione la tua stagione l'armi la tua stagione la tua stagione la tua stagione la tua stagione Grazie.